dai vai con under 3.5 non è under 3.5 8.9 under 3.5 ok 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 1.3 2.3 questo è under 3.5 vuoi vedere che mi ha detto under 9 non è vero 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 3,2,2 adesso c'è il film non è vero è la possibilità di 3 guarda l'ho messo in 4 3,2,2 3 3 3 3 5 6 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11